Prima Bassano, poi Rosà, adesso Cartigliano. Aumentano i casi di furti in abitazione. Si tratta soprattutto di furti messi a segno di notte finché i residenti stanno dormendo. A Cartigliano i ladri sono penetrati al piano terra, hanno rovistato nei cassetti e nelle borse della proprietaria, quindi sono scappati con un bottino di qualche migliaia di euro. A dare l'allarme il figlio ventenne che sentendo rumori provenire dal piano terra ha svegliato il papà. I malviventi sono riusciti però a scappare sul fatto, indaga la polizia del commissariato di Bassano.